musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono QDR e oggi ragazzi voglio parlarvi di alcuni segreti e alcune curiosità che sono stati scoperti su Fortnite ragazzi ci sono tantissime cose proprio sotto ai nostri occhi che non ci siamo ancora resi conto esistano per questo nel video di oggi parleremo ad esempio di un nuovo spot con dei chest a volte addirittura tre arrivato da pochissimo su Fortnite vedremo anche un luogo segreto che forse non tutti conoscono dove trovare una bella cassa di munizioni e parleremo ragazzi di un sacco di curiosità appunto interessanti come vi dicevo prima vi ricordo però ragazzi sempre di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento dei miei video ma prima ah ma prima ragazzi la domanda la domanda ve la faccio subito subito voglio sapere da voi ragazzi qual è la vostra perché non va la domanda qual è la vostra modalità a tempo limitata preferita oggi che è natale hanno inserito la modalità oro massiccio è tornata la rissa squadre ma negli altri giorni abbiamo visto la modalità cecchini abbiamo visto la modalità esplosivi insomma qual è la vostra preferita la mia ragazzi è la 50 versus 50 indiscutibilmente mi è sempre piaciuta tantissimo ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance parliamo subito ragazzi di una curiosità magari non tutti l'hanno notato ma sono certo che la maggior parte l'avrà visto si parla ragazzi di una delle skin di questo battle pass il sergente bruma bruma sergent winter come lo chiamano in realtà in inglese come sappiamo ragazzi il sergente bruma ha degli stili personalizzati personalizzabili come vedete come sappiamo si può trasformare in un lama quando arriviamo a fare 14 sfide quotidiane o addirittura con una testa di babbo natale e qui ragazzi con la testa del babbo volevo appunto dirvi che se non lo avete notato quando noi siamo nel bus il la mongolfiera ricoperta con il babbo natale ha esattamente la stessa identica testa del sergente bruma quindi ragazzi una curiosità molto molto interessante che sicuramente era degna di nota andando avanti ragazzi invece un'altra curiosità interessantissima che forse non tutti conoscono è relativa al piccone uno dei picconi usciti ragazzi in queste feste di natale sto ovviamente parlando della snow globe quindi il piccone palla di neve forse ragazzi guardandolo bene sappiamo che c'è una fighissima ragazzi immagine del pan di zenzolo dentro che di prepotenza gira ogni due secondi ma ragazzi guardiamo bene il pan di zenzero notate qualcosa di particolare esatto ragazzi c'è una parte di pan di zenzero completamente tagliata non è assolutamente a forma intera e sapete perché ragazzi succede questa cosa ve lo faccio vedere subito ragazzi perché ho sbagliato a cliccare ho risbagliato a cliccare miseriaccia miseriaccia non è assolutamente facile raga fare queste cose perché nel trailer della season 7 guardate un po' si mangia un boccone di pan di zenzero il nostro schiaccianoci ragazzi e come vedete la sua bocca essendo quadrata dà la forma uguale al taglio che c'è nello schiaccianoci che abbiamo nel pan di zenzero che è presente nella palla di neve andando avanti ragazzi un'altra curiosità interessantissima è appunto il nuovo spot segreto di cui vi parlavo e che è stato inserito con l'ultimissimo aggiornamento lo troviamo ragazzi a spiagge snob ed è possibile recuperare fino a tre chest completamente gratuiti non sappiamo perché l'abbiano fatto ragazzi ma guardate un po' prot esattamente nell'ultima casa di spiagge snob intanto ragazzi gg per la mappa tutta completamente innevata non la vedremo più così è stato messo questo camino con tre chest e non sappiamo bene perché i palloncini andiamo un attimo ad aprire i chest vediamo cosa troviamo di bello beh l'oggetto più bello di questi chest direi che è assolutamente il missile guidato che si trova oramai solamente nel parco giochi beh ragazzi se cercate chest gratis questo è il posto giusto ma non sono finiti ragazzi i posti segreti che vi voglio far vedere in questo video come vedete ragazzi stiamo atterrando al nostro classico tempio tomato ragazzi che conosciamo tutti benissimo ma forse non tutti sappiamo dell'esistenza di una cassa di munizioni imboscata in un punto che sicuramente conoscerete meglio delle vostre tasche si ragazzi si tratta proprio della casa all'esterno del tempio tomato ragazzi tutti sappiamo che c'è un chest qua e tutti sappiamo che a volte ci può capitare di trovare un chest sopra questa scrivania ma ragazzi forse non lo sapete ma se apriamo la piccola base del tetto beh ragazzi sotto qua c'è un nuovo chest segreto che anche io sinceramente ho scoperto da pochissimo e chissà quanti ce ne sono ancora in giro per la mappa mai scoperti ma le curiosità ragazzi non sono ancora finite e non a caso ho inserito la skin del nostro tender defender il pollazzo una delle mie skin preferite perché ha un'ignoranza veramente assurda e con il backpack del mini marauder dietro gli sta davvero da dio dai è meraviglioso raga il backpack del mini marauder sbloccato con le sfide di ieri è davvero tanta tanta roba grazie epic games dobbiamo assolutamente riconoscerglielo beh ragazzi voglio farvi vedere un'immagine questa ragazzi la ricordate tutti la conoscete è la schermata di caricamento del tender defender che si sblocca in questa season ma ragazzi forse non tutti hanno notato una cosa molto particolare nell'angolino a sinistra non la vedete perché ci sono io mi sposto un po in mezzo ma probabilmente non la vedrete ancora beh ragazzi ve la faccio vedere io guardate un pochettino ragazzi avete notato quello che ho notato anche io guardate ragazzi che cosa c'è nascosto in mezzo all'erba c'è una testa di pomodoro che è lì che ti guarda infrattata di prepotezza in mezzo all'erba ma come ma perché ragazzi vi invito ad andare a dare un'occhiata alle altre schermate di caricamento e di guardarle con attenzione magari trovate qualcosa che io non ho notato e posso inserirvi in un mio video ringraziandomi ringraziandomi ringraziandovi ovviamente per averla trovata arrivando quindi ragazzi all'ultimo dei segreti che voglio parlarvi di cui voglio parlarvi oggi stiamo ovviamente ragazzi vedendo il nostro nuovo castello ragazzi il castello quello nascosto nel ghiaccio e come vedete ragazzi a parte che si sta sciogliendo man mano che andiamo avanti e quindi che passano le settimane beh ragazzi forse non lo sapete ma in questo luogo dove c'è la biblioteca ragazzi se andiamo fino al piano più basso guardate un pochettino che cosa c'è ragazzi esatto c'è proprio un quadro che raffigura il nostro pizza pit ovviamente in una vecchia fotografia beh ragazzi forse non lo sapete ma il signor pizza pit ragazzi quel quadro è presente anche nella nuovissima location di corso commercio ragazzi quella che stiamo per raggiungere in questo momento insomma il nuovo insediamento del pizza pit guardate un pochettino ragazzi che coincidenza o forse non è una coincidenza ma se noi entriamo al pizza pit che magari mica che lo distruggiamo ci entriamo dalla porta e passiamo di qua beh ragazzi il quadro che avete visto prima è esattamente il quadro presente anche nel locale come mai perché boh ragazzi io non ne ho assolutamente idea potrebbe davvero solo trattarsi di una coincidenza o invece potrebbe davvero essere qualcosa di più beh ragazzi io direi che anche per oggi delle curiosità dei segreti ve li ho detti vi voglio ringraziare davvero tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando ragazzi un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto un bel like attivatevi alla campanella noi ci vediamo presto ciao 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 ciao